Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Questa mattina in centro manifestazione sindacale a Piazza dei Santi Apostoli con possibili repercussioni per la viabilità nell'area di Piazza Venezia. Nel pomeriggio invece la manifestazione non una di meno in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Previsto un corteo dal Circo Massimo a San Giovanni. Ancora oggi pomeriggio corteo a Ostia a tutela delle riserve naturali sfiderà da Via delle Baleniere a Piazza Ancomarzio.